Test di registrazione video 4K da Xiaomi Redmi 5 Plus, movimento veloce, zoom digitale addirittura 10x sul condizionatore, torno indietro, cambio di messa a fuoco, cambio di luce, devo dire molto rapido entrambi e anche molto precisi, registrazione video 4K Xiaomi Redmi 5 Plus. Grazie a tutti. Neon? Registrazione video full HD da Xiaomi Redmi 5. Quindi una risoluzione più bassa rispetto al Redmi 5 Plus, la state vedendo probabilmente anche in 4K grazie all'interpolazione che ho fatto via software. Zoom 8x, quindi non 10x, torno indietro, cambio di luce e di messa a fuoco, anche questo preciso e rapido, registrazione video full HD Xiaomi Redmi 5.